Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Senti come suonano le onde del mare, senti come cantano le loro campane. Benvenuti a una nuova puntata, abbiamo ospite Ferrante Anguizzola, ma detto Ferrante, prima cosa, la prima domanda che non c'è spontanea, quormai hai inserito quel detto davanti al tuo nome? Soprattutto perché detto? Senti, guarda, questa domanda non la fanno in tanti perché in effetti sembra quasi il controsenso. Io sono Ferrante Anguizzola e non sono solo detto, ma sono anche Ferrante. Ma la visione è questa, che io ho pubblicato un primo disco nel 1978, con il pseudonimo Asterix. Poi successivamente, quando dopo anni mi sono liberato dell'impiccio, sono entrato in pensione, a quel punto lì ho deciso di andare avanti, di recuperare tutte le canzoni che avevo scritto così in precedenza. E non mi andava più bene Asterix perché nel frattempo ho visto che la CIA non l'ha seguito con precisione, perché sono nate altre persone, si chiamano Asterix, che hanno niente a che fare con me. Allora io ho detto, facciamo Barbarossa. No, non c'è già uno. Ho fatto 5-6 domande e alla fine, siccome non riuscivo mai a superare questa barriera del controllo di quale è il pseudonimo o il nome d'arte, ho detto, senti, metti davanti, metti detto davanti. E così mi ha detto, sì, va bene, e così è nata. Quindi è nata la fine di una piccola via prima e mi va benissimo. A questo punto un'altra domanda più semplice. Se devi raccontare chi è Ferrante, a chi ci ascolta, ma soprattutto se dovessi descriverlo inserendolo in una canzone, come personale, come lo descrivesse e come lo racconteresti? Paoli, ma questa è veramente una bella domanda da terzo liceo. Ecco, dunque, Ferrante intanto, la famiglia è piacentina. Il nome Ferrante è un nome spagnolo di origine e non so da che parte è arrivato e perché si è arrivato comunque, ma anche il mio bisnonno si chiama Ferrante, diciamo, quindi un nome quasi consolidato di famiglia e poi la famiglia è piacentina, però per una ragione che non so, sono cresciuto nei primi anni in una cascina nel Cremonese. Le cascine sono quegli spazi grandi dove si coltiva la terra con tanti quei cavalli, le cavalli, le mucche, eccetera. E quindi praticamente lì sono stato fino a un certo giorno, fino a poi, quando ho avuto otto anni e ho dato una frase in dialetto alla mia mamma, mia mamma ha detto, no, questi ragazzi voi dovete imparare l'italiano perché questa è la lingua di questa nostra patria e mi hanno mandato insieme a mio fratello a Firenze in collegio, dove poi, sì, con la guerra non ci sono più stati, insomma comunque ho otto anni di collegio fatto e lì ho conosciuto tutta l'Italia, praticamente i ragazzi come ragionavano a Bolzano, come ragionavano a Trapani, come ragionavano a Roma, come ragionavano in Ascoli e così via. E questo mi ha servito tantissimo poi nel mio lavoro e anche nella costruzione della mia cultura musicale, con le culture in genere, ecco diciamo. Quindi mi sono occupato di elettronica. L'elettronica è stata una bestia che mi ha preso molto e con questo per esempio come ragionavatore andavo sui Mondi Sibilini a trasmettere anche, naturalmente anche sulle Alpi e anche in altre parti, ma sui Mondi Sibilini, perché nel 57 mi sono sposato con una bella ragazza di Luporto, Porto San Giorgio, per cui io conosco bene qui da tutta la terra e devo dire che negli anni 57 quando mi sono sposato le Marche è una cosa da guardare con gli occhi spalancati e aperti e stupiti, perché c'erano bellezze, bellezze, capacità e possibilità che io li vedevo, sai, la mia cultura è sempre del nord e quindi vedo certe cose. Quando arrivavo all'aeroporto dicevo, ma potete fare questo, quello, e la risposta era sempre quella. Scimo Poretti. Ma dico, ma dove siete Poretti? Avete in mare, avete vettuto? Insomma, comunque a un certo momento ho fatto un piccolo restauro, un piccolo, piccolissimo perché i soldi se non ce ne avevo, ma volevo fare qualcosa per dimostrare che anche senza soldi qualcosa si può fare. Torre di Palme, ti dici qualcosa? Torre di Palme, che è una perla, era abbandonato questo paese qua. Io ho preso con niente una torricella che era di quelli di avvistamento, i saraceni, eccetera. E ho fatto un ristorantino piccolino con la musica. Primo ristorante con la musica del mare. Guarda. Poi ho cercato che qualcuno lo conducesse e ne ho trovato uno e quindi ho cominciato ad andare avanti con il suo nome che è Iemolo Fugarò. Poi, insomma, per dire, come dico anche, sono immerso nelle Marche, uno stupendo, stupendo paese. E ti dico ancora, questo è sempre io che racconto, eh, quando i marchigiani, perché mi sono entrati nel sangue, a parte che ho due figli che sono nate nelle Marche, Porto San Giorgio, a Fermo, i marchigiani hanno due anime, un'anima fattiva, che lavorano come milanesi, e l'altra anima di sapersi divertire e sognare. Questa è una caratteristica straordinaria. E poi l'abbiamo visto più avanti, quando è cominciata a nascere le scarpe, la tradizione delle scarpe, che non c'era prima, insomma, così. E vado avanti. Ecco, allora vado avanti, questa mia passione di elettronica mi ha preso tanto, però quando sono nato all'università ho dovuto riflettere se mi serviva veramente o se dovevo seguire e aiutare mio padre, che aveva un'industria di… è la prima industria innovativa su come si alimenta il bestiame. perché il bestiame, le vacche, i cavalli, eccetera, i baiali, erano alimentati come si faceva sempre nel medioevo, cioè con caroturco, grano, erba medica, cose così. Quindi un materiale costoso che non rendeva però… allora la razionalità dell'alimentazione mi serviva di dargli qualcosa, cosa vuoi fare? Ingrassare. Bene, facciamoli ingrassare. Volevamo fare più uova alle galline, facciamoli fare più uova. Allora tutti mirati in quel senso lì. Allora mi sono laureato in chimica industriale a Bologna, però sempre con l'elettronica in testa, per cui a un certo momento questa attività non è andata bene come doveva e allora ho fatto una società di elettronica con due miei amici che si chiama Exibo. Questa ditta ha preso la rappresentanza come primo lavoro di Microfoni Senaes. Il Microfoni Senaes mi ha portato praticamente prima la RAI, poi man mano tutto il resto e poi anche fare qualche cosa che per le radio private che sono nate nel 70 più o meno, io personalmente mi posso anche citare un pochettino cugino delle radio private perché è veramente stato un momento incredibile. C'era una fila di gente che veniva a comprare i microfoni, veniva a comprare le antenne, ma non sapendo esattamente cos'erano queste cose, cosa servivano. Allora io ho fatto a Venezia nel 79 una scuola con 600 lievi e tra questi erano interessantissime come vedere le suorine di Radio Maria che non c'era ancora, ma insomma poi l'hanno fatta girare con i microfoni in mano con il Nagra, il famoso registratore a tracolla ecco. Quella è stata una scuola che ha dato la coscienza di cosa si poteva trasmettere, come trasmettere, insomma la coscienza tecnica diciamo ecco. Ecco questo fatto qui mi ha portato poi a seguire per otto anni il Festival di Sanremo, ma non come cantante, io ero lì come tecnico del suono perché... Io a questo punto questo pezzo aspetterei di dirlo perché a questo punto prima parliamo del disco che è uscito perché poi in due anni hai fatto tanta attività, tanti dischi, perché hai fatto tre dischi mi pare aver capito. Sì, esatto, sì. A questo punto prima cosa parliamo dell'ultimo singolo che chiaramente è questo punto Sinfonia di Mare, a questo punto prima cosa come nasce, come nasce questo disco? Forse ti immaginiamo di fronte al mare che scrivi questa canzone, da cose tra tanti ispirazioni, poi com'è sviluppata e com'è cresciuta fino a poi arrivare a questo risultato? Allora il corso nasce così che io del mare conoscevo ben poco, conoscevo un po' di fiumi in Lombardia dove si andava sui sassi a tentare di fare un bagno quando era caldo. Quando mi sono sposato ho conosciuto il mare, allora come la conosco? All'uborto, scusate se lo dico così, sotto l'ombrellone, un giorno va bene, secondo giorno va bene, terzo giorno va bene, dopo 15 giorni dico ma che faccio io qui? e mi sentivo costretto a stare a prendere un sole che insomma mi piaceva, insomma neanche troppo. Allora mi scappa l'occhio su una barca vela perché c'erano queste barca vela che andavano su e giù ed io ero molto curioso di vedere, non avevo avuto nessuna esperienza prima. Allora mi trovo la fortuna di un amico che mi dice, senti guarda io ho un dinghi 12 piedi, se lo vuoi te lo regalo perché io non lo uso più. Allora ho preso questo dinghi ma non sapevo cosa farcene. Allora la lega navale dell'uroporto c'era questo marinaio incredibile, Santì, che mi diceva, ci penso io, tu vieni qui con la barca e poi ti dico cosa fare. E così ho cominciato a, per sicceri lui da terra mi diceva, cazza, orsa, cosa vuol dire? Allora mi ha spiegato anche questo. Fatto sta che ho cominciato poi a fare le gatte e poi alla fine mi sono reso conto che avevo bisogno di più. Allora sono nato a Caprera e sono diventato istruttore. E allora, capisci, con questo la mia percezione del mare, una percezione romantica da un lato ma anche molto pratica dall'altra. Quindi quella canzone lì è nata navigando con mia moglie, la mia seconda moglie per la verità, che è croata, nelle acque delle isole croate di fronte a Spalto. Perché è una cosa che questo mi ha molto colpito, il fatto di dire che Porto San Giorgio e Spalto sono esattamente sullo stesso parallelo. E quindi queste isole sono molto avvicinate, per cui se uno parte al mattino con i primi avanzi, si chiama Borino nel Veneto, e lì non mi ricordo come lo chiamano, insomma. Comunque tu esci, non c'è onda, la barca viaggia veloce e cominci ad andare tra le isole e senti abbaiare un cane a sinistra, cantare a destra, nelle voci a sinistra e le voci a destra e vai avanti così. E quindi tenebria, poi verso le undici nasce il maestrale e quindi allora è un'altra vita che si fa. In quello, mi è venuto proprio in mente scrivere questa canzone, perché era quello che vedevo in quel momento lì. E quindi anche molte altre canzoni sono prese dal mare, perché in effetti ero poi immerso uno per ragione o per l'altra, però le Marche c'entrano sempre, anche se poi dopo il secondo matrimonio, insomma, non sono più andato così frequentemente, però Porto San Giorgio e tutto il complesso marchigiano e gli amici ce l'ho sempre nel cuore. Ecco, sono risposto un pochino. E questo singolo fa parte dell'album, che è La Voce e la Voce va. Che punto hai detto? Ci sono molte canzoni che trattano il mare. A questo punto io ti faccio la domanda, come nasce l'idea poi di questo titolo, E la Voce va? Ma soprattutto, oltre a quei brani che trattano argomenti di mare, un pochino, comunque l'acqua è sempre un po' presente in questo album. Sì, sì, sì. L'acqua è presente, per dire, beh, insomma, è affascinante l'acqua e adesso che tra l'altro si apre una prospettiva poco allegra, lo guardiamo con degli occhi ancora più concreti. Io sono della costellazione dei pesci e la costellazione dei pesci ha una caratteristica molto particolare perché si presenta con due pesci, uno che guarda a destra e l'altro che guarda a sinistra, non politicamente parlando naturalmente, uno in alto e l'altro in basso, quindi c'è sempre qualcuno che ti dice guarda qui, guarda là, stai attento a questo, stai attento a quell'altro. Io trovo una costellazione molto interessante, almeno questa è la mia. Ci sono delle altre interessanti, le altre, però insomma, vabbè, tutto bello, va dire, si va. E allora quindi il mare, l'acqua, poi la passione anche per il mare, eccetera, tutto questo mi hanno sempre portato in dati nuovi stimoli, no? E quindi, diciamo, il mare Mediterraneo è veramente un mare incredibile. Io ho avuto l'occasione anche per fare della navigazione nella Tahiti, quelle zone lì che si chiama la zona francese, e mi sono accorto che cosa vuol dire il mare Mediterraneo, che è un mare che ti avvisa, parla, dice, insomma, piccole onde, piccole grandi onde che certe volte, secondo, mentre i mari, gli oceani, eccetera, sparano un vento che continua mattina e sera in una delle sette direzioni, eccetera, da un altro può essere... Insomma, se non voglio fare un capitolo su questo. Per cui mi è venuto spontaneo ricordare il mare Mediterraneo, ho visto anche dal lato dei venti, perché nel Mediterraneo ci sono raccontate tante storie d'amore e tante belle storie, ma insomma, i venti, la bora, cos'è? La bora, oh sì, si parla, è un vento, insomma, con una barca a vela, con le vele giuste, è una goduria andare, perché la bora non solleva mare, e quindi non ci sono onde, mentre lo scirocco, tutti lo sanno, sono lì un macello di onde, eccetera, per cui non puoi goderti, devi stare a guardare. Ecco, e quindi voglio dire, cosa fa sul Mediterraneo? Che è un po', è praticamente la cura, insomma, non è esagerato dire, insomma, questo nostro misfero è la cura di una certa civiltà, che è la nostra, quindi che parte dai greci, includendo poi l'Egitto, poi la Turchia, ma soprattutto l'Egitto, i greci e poi Roma, insomma. E allora, dico, questa voce che va è una voce di amore, voce di sensazioni, di ricordi, di cultura, tutte queste cose, e purtroppo anche di guerra, talvolta, in questo momento, poi. E quindi la voce va e diffonde in prevalenza cose positive, qualcosa che ha generato proprio una cultura e ha generato anche le bellezze che abbiamo nel nostro paese, che, questo lo dice Ul, perché poi io con lavoro ho girato il mondo tantissimo, e poi ti spiegherò anche questo perché. E questo sì, fa sì che io sono un italiano che fin da 19 anni, quando facevo l'autostop in Europa, come unico italiano, perché non ce n'era, no? E devo dire, quando mi sono accorto che essere italiano era un plus, si direbbe plus in italiano. Ho messo la bandiera italiana sul mio sacco da montagna e le macchine si fermavano, in italiano, voglio invalarti. Perché? Perché? Perché questo paese è unico e dobbiamo essere convinti, dobbiamo essere convinti che è unico. È una cosa straordinaria in questo paese. E perché giravo tanto? Perché quel mio lavoro che mi avevo inventato era quello di portare in Italia a cose macchinari, non grandi macchine, modi di essere internazionali. Per cui guardavo dove mancava e quindi cercavo nelle mostre internazionali il prodotto e anche il tipo di persone con cui costruire un futuro. Perché non puoi lavorare con tanta gente di cui non ti fidi. Quindi se mi piaceva, lavoravo, se no, non lavoravo. E con questo, Sennheiser, per esempio, sono 75 anni che lavoriamo con loro, per dire. e poi facendo tutto quello che serve all'attenzione prima della vendita, dopo la vendita, non mai lasciare i clienti abbandonati, eccetera. Insomma, tutte queste cose io le ho fatte e quindi sono qua adesso quando sono andato in pensione a 80 anni e ho detto beh, adesso cosa faccio una grande. E loro mi sono messo a tirare fuori. E in questo momento sto lavorando a una canzone che io dico una canzone europea perché è bilingue. Bilingue il tedesco e l'italiano? Mi direi perché è tedesco? Eh, perché è tedesco? Insomma, io parlo una lingua che conosco, parlo quattro lingue e quindi straniere. E quindi quella mi piaceva, mi veniva bene perché per certe cose, perché al di là di quello che la voce del popolo in Italia si valutano i nostri vicini, insomma, tutti con degli occhi, quella si chiama senza una storia drammatica. Però, insomma, certe canzoni vengono anche bene in tedesco per dire. Ma comunque, vediamo cosa succede. E questa sarà una delle prossime cose che farò. Madonna, ho parlato un sacco. Notiamo, no, noi ci piace ascoltare i tuoi racconti perché la musica è fatta di racconti anche. quindi, ma notiamo che in realtà nel disco sono presenti momenti buoni perché il mare è una matrigna, a volte dolce, a volte crudele. E c'è anche una canzone effettivamente abbastanza triste nel contesto che è il requiem per un marinario. Sì, 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 questa canzone ha avuto una genesi veramente particolare e di cui mi stupisco sempre. Dunque, leggo sul Corriere questa storia, su un Corriere. Leggo e mi viene automatico di scriverla. Escrivo questa canzone e poi faccio un piccolo inciso. La mia carriera musicale è una carriera particolare dove io praticamente ho cominciato a cantare a 12 anni alle serenate che in campagna i ragazzi facevano le cose belle. I ferranti dovevano dire vieni con noi che sul caderno. Allora andavo e così qui c'è tutta un'esperienza. Poi man mano nelle famiglie poi alle università e poi in autostop dove andavo negli alberghi della gioventù con la mia chitarra naturalmente in Inchilterra nei ristoranti e quindi la mia esperienza musicale non è quella degli stadi perché insomma quella è veramente una cosa tosta è semplicemente di cantare e mi piaceva piacere probabilmente anche il fatto che non c'era molta gente che suonasse ho impressione di fatti diciamo la richiesta è diminuita dopo gli anni 70 quando ho cominciato a vedere più gente suonare e anche molto bene dunque ho dimenticato la domanda che mi hai fatto? riguardante il brano ah ecco sì è quella canzone lì è una canzone drammatica perché in quegli anni più di una volta è successa che le navi sparivano sparivano perché? è perché c'era il carico e il carico era fatto di cose che non doveva andare doveva essere portato in post luoghi sicuri metti che siano oli che siano grassi che siano munizioni che siano armi che siano cose o che siano anche prodotti di scarto delle società atomiche nel nucleare questo so che questa nave aveva un carico non so bene esattamente che cosa comunque è stato mandato a macero quindi in fondo al mare e questa cosa la sappiamo benissimo perché tu pensa è incredibile questa storia conosco a Venezia questa ragazza che poi è stata mia moglie e la vado a trovare a Spalato suo padre era un avvocato un ragazzo avvocato siamo in Jugoslavia ancora a quel tempo lì e mi dice ma se ti canta quella canzone lì ti ho fuori a cantare e comincio a cantare e a un certo punto vedo il mio suocero futuro che si impallidisce e mi dice ma questo sono io e cos'è la storia? è che lui è stato chiamato dalla moglie del cinque delegrafista che è morto in mare per fare causa alla scompagnia a Genova e ha vinto la causa fatto bene questa combinazione è una cosa stupefacente veramente non so proprio quindi mi sono ancora innamorato di più però ti devo dire che come la canto io a mano libera insomma così con la chitarra semplicemente l'emozione la cattura ancora di più di quanto non può essere questa però insomma sai com'è non si è mai perfetti e si sogna sempre la perfezione sì poi c'è un'altra canzone in effetti che anche quella è uno smacco in qualcuno che mi ha pensato di mostrare il mio amore che poi invece non c'era e quindi ma io perché ho scritto queste canzoni sai veramente anche queste cose possono sapere quali ragioni io l'ho fatta proprio deliberatamente con l'idea di dire diciamo possono succedere a tutti queste disavventure ma la soluzione non è il coltello o la pistola sono anche delle altre cose possono essere anche un po' ingenue come dico io ma insomma certamente bisogna sapere avere un controllo su queste situazioni che hanno colpito il tuo cuore che tu immaginavi un'altra cosa sei convinto anche tu si è convinto di questo sicuramente sicuramente nella realizzazione dei brani come nascono prima le parole nasce un un bit un riff un qualcosa che ti viene in mente oppure nascono prima le parole oppure nascono prima la musica oppure nascono insieme a chi entra in mente questa è una bella domanda sai in effetti devo dire che dunque io ho scritto parecchi testi in questo momento li ho mandati anche un amico che è una una persona che si intende dei settori e ha detto senti cosa faccio di questi testi perché li ho scartati perché magari sono situazioni che sono non sono più attuali o cose così e per questo è dovuto sempre a questi miei viaggi che mi potevo trovare a Seoul come New York come a Londra come Berlino da solo in un ristorante perché la sera dopo ho finito il lavoro cosa faccio insomma vado a mangiare a qualche parte lì e lì mi concentravo su quello che mangiavo e potevo bere magari compiangendomi un po' perché non avevo lo spaghetto di quelli giusti che ci avevo in mente però però allora guardavo i commensali e le canzoni lascevano un po' più da scaturivano insieme e mi prendevo nota di queste cose ma lì è di massima devo dire quando leggo e vedo che ci può essere qualcosa poi quando mi metto il pianoforte o la chitarra nascono poi insieme le cose se non poi ci sono le parole metto dei numeri dei numeri che equivalgono alla alle alla lunghezza del periodo e quindi poi insomma la gestione è sempre un po' lunghina qualche mese si vuole prendere fuori qualcosa che almeno nel tuo orecchio poi quando vai in studio è un altro discorso ancora e ci sta qualche aneddoto particolare che ricordi nella realizzazione di questo disco qualcosa di particolare divertente o stressante perché a volte quando si registra si sta il microfono in sala prove a volte non è sempre tutto il rasefiori ma a volte ci sono anche dei problemi hai ragione perché vedi allora io musicalmente parlando ho fatto parecchi anni di pianoforte e a sentire i miei docenti che poi erano anche docenti al conservatorio di Firenze mi dicevano che io suonavo come un allievo di 5 anni quindi suonavo piuttosto bene insomma musica classica naturalmente tutto però in casa mia si suonava tantissimo la mia mamma soprattutto gli piacevano le canzoni gli piacevano Chopin gli piacevano e ci ha dato una visione ampia sul mondo musicale su ampia insomma non con due canzoni ma almeno 4 8 se ne sapevano cosa vuole dire canzoni pezzi musicali devo dire sì ecco quindi quindi niente quindi le mie canzoni nascevano un po' così e poi io me le adattavo suonando usando 4 4 accordi sulla chitarra e me le aggiustavo bene venivano fuori le belle canzoni in effetti e devo dirti che quando suonavo e vedevo gli occhi soprattutto le ragazze cominciarono a brillare un po' e mi venivano ancora meglio diciamo così e questa è stata la mia esperienza quindi un'esperienza di un piccolo pubblico e cose di questo genere quando sono andato in studio ecco lì ho cominciato i problemi perché mi dicono eh caro mio sì sì ho canzone interessante però non è quadrata cosa vuol dire quadrata vuol dire che ci sono 8 battute devono essere 8 18 adesso 15 domani e secondi devono essere 8 e basta soprattutto se poi devono arrivare gli antimugicisti a ricamarsi su qualche effetto particolare e allora ho fatto questo processo quindi con un guitarrista abbiamo parlato registrato poi inquadrato e davanti al microfono mi sono sentito in prigioniera capito prigioniera eh sì perché in effetti c'era una libertà di poter poter e quindi effettivamente queste le alcune canzoni non hanno la ricchezza che dico questa parola in piena umiltà questa parola ricchezza ti do dire però mi sentiva caldo il mio cuore si scaldava le cantava queste cose se tu sei musicista lo capisci insomma com'è mentre invece allora questa prossima conzione che sto facendo le farò con un guitarrista o con un pianista anche il pianoforte ha una voce incredibile e si può fare delle cose spero di averla saluto e la forza di continuare un pochino almeno un personaggio famoso nella storia disse giusto faletti disse io entrai nello studio ed era scelta mina che aveva era entrata mina e aveva fatto il brano aveva cantato due secondi dopo appoggiava le cuffie diceva buona prima si sentiva buona prima a posto io ho detto io sono entrato ho fatto come mina ho cantato la mia canzone a un certo punto ho messo il microfono a posto ho detto a posto e mi sono sentito dire faletti dove vai c'è da ricantare che non andava bene per niente e lì ho capito la differenza che c'era tra me e mina a volte quando si entra in studio è un pochettino più complicato nel suonare ma nella storia quale artista ti sei portato dietro musicalmente che ti ha fatto anche crescere e forse porti ancora un pochettino nel cuore perché in fondo fa parte anche della tua vita non posso non non posso non posso non posso lasciare dire che io ho seguito la mina a cantare cantare la basilica in una vecchia chiesa come si dice di sacrata qui a Milano per cui ho visto lei cantare ho sentito Battisti e sono rimasto sballordito quando l'ho sentito ripetere per quasi non esagero quasi un giorno intero e voli tu una parola che di una canzone ripetute 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 fin tanto che non veniva fuori questo è un primo shock che ho avuto in uno studio poi quando ho fatto il il primo disco nel 68 non ho avuto nessun problema perché ho trovato un amico musicista che mi ha riadattato le cose alle mie flessibilità per cui ho fatto quel disco con proprio gioia anche le mie figlie hanno cantato ho fatto i loro versetti insomma ecco però ultimamente invece no il mondo poi è cambiato interamente perché è un punto musicale chi mi ha ispirato guarda io ho avuto un autentico schiaffo quando una mattina andando a lavoro a Bologna ero alle sette e mezza otto sento cantare dalle finestre una canzone mai sentita nel blu dipinto di blu in quel momento lì devo dire che per me Bodugna ha fatto un miracolo grande perché ha riportato le canzoni ha fatto il cambiamento in quel momento lì sono nate queste scuole la scuola genovese Faber la scuola di Lucio Dalla a Bologna che conoscevo benissimo anche lui Gaber non ne parliamo anche Gaber lo vedevo spesso e gli ho mandato anche le mie canzoni da ascoltare e questo è un aneddoto e Gaber mi telefona dopo dieci giorni e mi dice senti non smettiti a fare predicatore perché lo voleva fare lui il predicatore è stato straordinario D'accordo? Giorgio Gaber era eccezionale 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 sicuramente poi proprio con accidenti e quindi voglio dire quelli poi certamente anche la canzone napoletana importante canzone francese quando a Londra ho cantato nei ristoranti italiani cantavo quelle napoletane francesi soprattutto le canzoni italiane eccetto La barca va erano quelle canzoni lì qualcuna era melodiosa insomma anche quelle si cantavano ma una canzone che cantavo tantissimo era Catarì perché perché molto vilmente devo dire quando vedevo due innamorati allora gli raccontavo questa roba questa canzone la traducevo e mi e mi davano la caramancia mi accennato che cantare era al vivo non è che è suonato moltissimo però mi accennato il fatto che effettivamente quando davanti se hai o una o centomila persone l'emozione poi alla fine è sempre quella però la sensazione che hai davanti quando vedi effettivamente tu metto gli occhi e lo sguardo perché a volte riesci a vederlo perché si suoni con poche persone poi quando c'è un palco più grande ci sono le luci però sentire quel brusio poi sentire quell'emozione che quell'energia che dal sotto dal pubblico viene verso di te e tu l'assimili mentre suoni e involontamente poi le ritrasmetti a chi ascolta e le vedi emozionati felici quegli occhi appunto che mi hanno dato quell'energia in più che sensazione proprio in quel caso bravissima hai dato una spiegazione straordinaria a quale vorrei aggiungere questo che ci sono gli occhi brusivi ma anche l'eufonia voglio dire quel giorno che succede tutto di tutto in bene che il cantante grazie di Dio nel senso che la voce giusta l'ambiente giusto quindi la stanza giusta tutte queste cose qui la parola giusta è una parola che ovviamente è molto misericordiosa che si adatta un po' a tutto però in un modo impreciso e quindi quel momento lì insomma dentro di te c'è un rimescolamento e io posso capire sai questi che stavano davanti 200.000 miei colleghi grandi come chiamo sempre io studi stati con 100.000 200 insomma questa gente qua non è la stessa storia devo dire che avvenne 20 persone il principio sì è così ma la pratica il boate poi le ragazze che si scalmanno mi aveva molto colpito proprio queste cose in Italia non c'erano ancora ma vedevi i Beatles ecco quando i Beatles sono nati e quando ero io a Londra non c'erano Beatles non c'erano niente era una miseria per la verità quindi non mi sono divertito ma insomma questa cosa qua devo dire che ecco ti vedi le ragazze che andavano scalmane ecco così questo non c'era in Italia però adesso lo vedi anche ed è una magia diciamo e le sensazioni che proprio vedendo le fatture le persone che ascoltano i tuoi lavori e poi ti chiedono a volte ti romano soltanto domande tecniche però a volte ti fanno domande un po' più che poi in realtà non sono proprio domande ma la tua risposta è tale che il viso che tu vedi davanti le rese emozionate le rese felici come se avessero fatto una domanda specifica ma poi ha reso felice te e ha rispreso felice anche lei c'è certo certo certamente certamente no ma insomma le mie esperienze sono misere posso dire rispetto rispetto a tanti altri insomma tutti i nostri grandi cantanti insomma per esempio quando si accende il telefonino o l'accendino per dire tutti quanti lo accendono in una maniera lì capito quella è una dimostrazione ti amo ti voglio ecco e dietro lì c'è detto tutto insomma no io non ho avuto questo tipo di manifestazioni avevo gli occhi ecco con pure il suono che tornava bene e questa è la mia esperienza insomma miniatura abbiamo citato prima a un certo punto ti hanno interrotto perché parlavamo c'è stato ultimamente il festival di Sanremo tu hai frequentato molto il festival di Sanremo chiaramente occupandoti di un altro settore sempre dentro al festival non suonando ma hai detto appunto io facevo un'altra funzione che può alla fine molto importante perché altrimenti il musicista si trova in difficoltà sì eh sì eh sì no poi tra l'altro comunque come dicevo prima la direzione della Rai mi ha mi ha mi ha mi ha chiesto di assistere eh il team dei dei tecnici della Rai di Torino perché in quegli anni lì che dunque probabilmente c'erano 59 60 e andando in su ecco il festival si faceva ancora nel palazzo del casino quindi fatti tanti specchi tante cose eccetera che non erano esattamente favorevoli alla pulizia del suono perché rimbombavano eccetera ed era praticamente una è così ecco mi riprendo il discorso mi ricordo questi tecnici della Rai che erano anche ragazzi così un po' più vecchi di me al momento avevo 26 anni qualcosa di più 27 e allora per scaldare l'ambiente mi sono inventato una cosa e ho detto senti un po' invece di chiamare il microfono MD414 che vuol dire un modello dice chiamiamolo così vedi ha un torocino chiamiamolo torocino allora mi ha chiamato uno torocino l'altro gelato l'altro un altro nome non mi ricordo per cui divertire ferrante ci vuole un torocino qua e si glittava no torocino no meglio gelato e così questa fase di lavoro è accaduta molto bella perché poi i tecnici erano ancora della radio tenevano i controlli dei livelli si chiamavano i livelli che facevano a Roma e a Roma erano già televisionari e allora c'era anche un po' di paura che ci fossero delle insomma piccole dispettine ecco tra l'uno e l'altro ma con me sono sempre stati felicissimi sono usciti bene sempre bene e in quella occasione allora dunque cosa facevo praticamente era quello di aiutare a posizionare i microfoni a vedere se quel microfono andava bene per il solista se andava bene per l'orchestra se andava bene per il presentatore eccetera e quindi per questo spostavamo questi microfoni a secondo della loro perfezione tecnica in modo da dare sempre il meglio del segnale è così che una volta che il microfono del presentatore che era Mike Buongiorno ho sostituito il microfono normale che ha abituato lui e anche tutto il restante con un microfono a condensatore che è molto più sensibile allora mi andai a chiamare il signor Buongiorno e il signor Buongiorno arrivò è un mercoledì una giornata qualsiasi di prove perfettamente vestito come della festa quindi tutto in scuro con il fazzolettino qui sul taschino e mi dice cosa c'è ecco diciamo un po' al giorno guardi che alt fa nella mano destra mette la mano nella tasca destra della giacca fruga un pochino poi tira fuori un gesso si piega e dice dove sta il microfono lì poi fanno riga per terra poi dove devo stare io qui e fare la seconda riga per terra grazie tutto lì tutto lì la comunicazione lui bastato fare quei due segni sapeva già dove dovevo stare davanti alla rappresentazione cosa incredibile vedi ma il buongiorno che già mi piaceva è diventato poi un dio e il festival certamente che era era uno festival nessuno deve offendersi ma si dicono che erano somigliava un po' alla sagra ci mancava il prete perché perché soprattutto i primi c'erano le mamme che erano le regine vere e poi c'erano i musicisti poi c'erano anche i cantanti ma le mamme erano quelle che erano in ansia sì per i figli maschi ma per le femmine facevano anche di più mi spingevano in avanti ecco tutto questo io ce l'ho negli occhi questa cosa qua devo dire che mi sono proprio divertito adesso il festival è diventato una cosa molto più seria molto più impegnativa anche perché poi lo guarda il mondo adesso a quel tempo si guardava c'era con il microfono con un pulsante solo per vedere un programma poi io mi sono trovato nel mio lavoro a trovare chi faceva i pulsantiere a tre pulsanti per sentire tre programmi e poi tam 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 si è schiacciando questi qui e poi adesso invece è il mondo intero che si vede insomma quindi è giusto che anche il festival si sia cambiato pelle no diciamo sicuramente ci sono migliaia di microfoni nell'arco del palco perché ci sono l'orchestra ci sono i presentatori ci sono è una una marea di microfoni sì 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 ma ti posso dire ancora una cosa di tromperi dunque Sennheiser è rappresentato nel 1959 alla fiera il primo radiomicrofono al mondo il microfono senza filo ecco io figuro subito corro in giro farlo vedere tutti lo guardavano ammirato tutti lo sognavano ma nessuno aveva il coraggio di comprare il microfono senza un filo ma perché? eh perché se mi si stacca cosa faccio faccio un'intervista importante a qualcuno di queste persone insomma che non riesco una volta nella vita insomma e mi si stacca che cosa? il filo non c'è neanche il filo e allora come faccio? e quindi questo dramma è andato avanti ma sai diversi anni a un certo punto mi dicono mi chiamano da Torino perché era Torino l'ufficio acquisti e mi dice il direttore vuole parlare e allora io vado lì e mi dicono sì abbiamo bisogno di una di quelle sue cose senza il filo e io ma cosa per dove? che programma è? no segreto segreto non si sa non si sa niente allora comunque trepidante torno in macchina a portargli questo microfono e niente non si sapeva nulla qualche giorno dopo arriva da Bologna un altro mio amico un malatto di radio da Bologna e andiamo a mangiare in piazza del Duomo a Milano finito di mangiare era un inverno le due esco fuori e davanti alla facciata del Duomo di Milano c'è un signore alto con un cappello in testa col braccio proteso verso la facciata del Duomo e in mano cosa aveva? un mio radio microfono che poi ho capito che è quello e con un altro e faceva una piccola scenetta diceva segna scrivi questo e diceva allora io arrivo ma cos'è cos'è e fermo subito e mi dice ma scusi mi lasci lavorare sto misurando la radioattività della facciata del Duomo ma cosa sta dicendo? è stata una cosa fantastica era Nanni Loy che stava sperimentando lo specchio segreto e da lì poi sono nati radimicrofoni sono nati a tutto Nanni Loy col specchio segreto ci mancava ed è meravigliosa questa cosa meravigliosa stazione Termi di Roma mi tiene questo bambino questo in braccio quel tipo che si è trovato insomma era proprio spiritoso di noi e che cosa se dovessi aver dimenticato qualcosa del questo disco l'ultimo disco che cosa avremmo dimenticato? di dire guarda credo abbiamo parlato mentalmente tanto che non so proprio cosa abbiamo dimenticato ecco per esempio qui stavo guardando qualcuno che mi ha chiesto cosa consiglieresti ai giovani che si stanno approcciando per la prima volta al mondo artistico e questo è il posto datato alla radio magazine non mi ricordo sei mesi fa sette mesi fa e i sogni si possono realizzare a condizione di avere una passione autentica e una precisione determinazione autentica salute ferrea convinzione confidenza in se stessi saper cogliere le occasioni saper vedere e riconoscere Kairos che sarebbe il dio dei greci e dio della fortuna che è una testa con un ciuffo che si piglia il ciuffo e per l'occasione non va persa se uno è capace di questo e acciuffarlo sapere ascoltare poi con onestà lealtate la città e serietà professionale questo io dico coraggio a tutti con un bagaglio di questo non si può solamente vincere e se comunque non vinci impari che anche questa è una battutina vichè il secondo vichè il secondo piano un'altra cosa particolare di questo disco la copertina si dice minimal c'è la tua foto con un fondo abbastanza normale come mai questa copertina con soprattutto soltanto te non lo so guarda questa qui è semmai proprio un vecchio la vecchia idea di fare vedere ecco la domanda interessante in questo senso qui perché il primo il primo che poi non è PLP che ho fatto quello del 78 che tra l'altro è ancora attuale adesso perché era un disco di critica abbastanza pesante un po' società quella non ho messo la mia faccia ho messo semplicemente un disegno che aveva fatto una figlia che poi ho fatto l'architettura eccetera per questo qui invece dove ho voluto fare non più la critica ma farmi gli occhi aperti che era il precedente ancora occhi aperti significa perché perché il mondo sta cambiando tantissimo per esempio il mondo informatico che è un mondo sconosciuto insomma sconosciuto nel senso degli effetti come reagisce qual è la realtà del mondo digitale insomma è già un'altra cosa e poi andiamo su quest'altro la voce che è effettivamente più intimo e allora mi sono messo io un po' questa era un po' la penso prossime che farò forse cambierò forse farò qualcosa di più più moderno ecco se questa è la parola giusta secondo te passare il fatto che adesso il mondo è tutto digitale tutte queste piattaforme e soprattutto il valore che si hanno delle piattaforme 9 euro al mese per 500 700 mila brand c'è un po' un momento in cui effettivamente c'è un po' di pubblicità però in realtà il valore della musica si sta perdendo il valore commerciale ma soprattutto economico della musica non ha più quel valore come forse di qualche anno fa guarda gli devo dire questo che io adesso dopo che ho fatto quest'ultimo presentato la voce va in marzo mi sono perso in un mondo digitale pesantissimo nel senso che dietro i socials c'è una quantità di cose da scrivere quanti bottoni da schiacciare per ottenere qualcosa di più ma una fatica unica di fatti proprio in questo momento ho avuto come una specie di rifiuto ho messo per esempio le parole con Music Match che è una bellissima attività Music Match è sempre americana ma è di Bologna è una roba che tra l'altro mi sento subito uno dei miei insomma perché Bologna la conosco bene troppo pesanti perché in effetti o fai il musicista o fai il schiacciataste insomma no questo e questo mortifica per me mortifica moltissimo moltissimo anche veramente perché anche diciamo il il mestiere se riesci a riempire gli stadi riesci a vendere i tuoi dischi per cui cosa vedi subito la moneta se invece devi fidarti solamente alla la bontà di cuore di questi messaggini che fai eccetera e lì proprio qualcosa non sobbastona ecco non c'è quindi effettivamente io penso ecco poi ci vediamo scusa facciamo c'è anche il mezzo in cui trasmetti le cose il il cd il cd sta passando di moda per cui anche non so io sono di vecchi amici quando sono andato in macchina ho sentito solo il suo disco ero capito perché nella macchina fino a qualche anno fa c'erano i cd c'erano sì la lettura adesso manca quello cioè ecco per cui in effetti è come se tu fai un passo e ti manca il terreno sotto è questo che è successo e quindi effettivamente qui però devo dire che affrontando quella montagna che appunto tutta l'informatica che c'è dietro qualcosa si potrebbe ottenere però insomma c'è una fatica e poi tra l'altro io sto cercando disperatamente qualcuno che mi sostituisca in quel lavoro lì mi facendomi fare divertire cantare ecco e io non li trovo o trovo persone che mi dicono che fanno dei programmi sì insomma è un mondo che funziona un mondo difficile è un mondo sì che sì sì è difficile veramente insomma e intanto noi ti ringraziamo per essere stato ospite allora ci mancano intanto prima cosa i saluti finali poi come poter comprare il disco dove potessi raggiungere sì dunque allora il disco viene viene messo sulla io sono autoproduttore praticamente no e il terzo millennio records a Milano quelli lo vendono vendono basta telefonargli si trova su terzo millennio records si trova sul e vabbè questo non sono pure il telefono ma comunque si trova su internet si trova poterlo ordinare sì sì qui si può ragazzi mi ha fatto molto piacere e credo che si abbia anche visto che mi sono un po' sbracciato qua de avere questa possibilità di parlare con con una radio una radio televisione col tuo intervento stimolante molto interessante del tuo territorio che amo tantissimo per ragioni per personale che sono le marche e quindi e quindi questo mi ha fatto molto piacere quando Francesco me l'ha detto guarda ti voglio da Scordiceno è una sai com'è quando lavori tutta la vita eccetera poi dico cosa farò da grande ma non dici a 80 anni preferite sono un po' una cosa peculiare non so proprio se vantarmi o dire poveraccio non so che cosa perché in effetti un impegno c'è sempre comunque chi vedrà vedrà io dico sempre una cosa questa è un po' una mia battuta non perdo mai perché se vinco vinco se non vinco imparo e quindi anche questo l'unica variante è che adesso di anni sono un po' tanti per cui non ho più il controllo io ma ce l'ho un altro è così studio 7 in collaborazione con sport e piceno game presenta l'intervista di pietro senti come suonano le onde del mare senti come cantano le loro campane senti come suonano le campane